Grazie dell'invito e soprattutto grazie per aver messo sul tavolo di fronte a noi, di fronte anche alla CGL, un tema che non considero uno dei tanti da affrontare ma lo considero la questione fondamentale di questa fase, il problema della rappresentanza politica del lavoro, direi anche della rappresentanza sociale del lavoro perché credo che con le necessarie differenze e non mi sfuggono la diversa portata del deficit di rappresentanza tra rappresentanza politica e tra rappresentanza sociale, credo ci sia anche un problema serio di rappresentanza sociale. Ritengo che oramai siamo giunti ad un punto che ci costringe ad avere il coraggio di guardare in faccia la realtà, non siamo di fronte a un problema congiunturale, cioè una disattenzione dovuta a debolezza della sinistra italiana, dovuta a un impoverimento dello spessore culturale, siamo di fronte a mio avviso ad un nodo storico in questa fase, siamo di fronte ai risultati di un'offensiva sistematica che c'è stata nel corso degli ultimi 30 anni, innanzitutto sul piano culturale e poi anche nella costruzione delle condizioni materiali di svuotamento della funzione sociale e politica della rappresentanza del lavoro. Che cosa voglio dire? Molto rapidamente. Guardate che non è affatto scontato oggi porsi il problema della rappresentanza politica del lavoro, noi veniamo da una lunga fase in cui il messaggio fondamentale è stato quello che il lavoro non era più un interesse specifico da rappresentare, c'è l'interesse della proprietà dell'impresa che è interesse generale, quindi non è un problema il fatto che non ci sia la rappresentanza del lavoro, non c'è bisogno perché l'interesse del lavoro non è un interesse specifico, non ha una specificità da dover rappresentare. Io in questi giorni mi sono scorso il programma, pare che non c'entri niente ma c'entra molto, il programma degli annual meetings del Fondo Monetario Internazionale mi ha colpito perché in questi 3-4 giorni di panel, di interventi ci sono ovviamente i governi, ci sono gli economisti che per definizione sono neutri, perché l'economia ci viene raccontata e proposta come una scienza neutra, ci sono i CEO, i manager delle grandi multinazionali che fanno gli incontri con i governi e con gli economisti e poi c'è una generica società civile dove dentro ci sono tutti i movimenti. La rappresentanza del lavoro non è ritenuta significativa in quanto non c'è nulla, i lavoratori vengono rappresentati da chi rappresenta l'impresa. Questo è stato il messaggio che largamente prevale. Guardate, non è che solo a destra, è passato anche da noi. Diciamo, chi all'ingotto, l'atto fondativo del PD che oggi viene considerato appunto, come dire, tradito, all'ingotto, Pietro Ichino teorizzava il diritto del lavoro come una branca del diritto commerciale, senza nessuna specificità. Poi Matteo Renzi ha fatto il Jobs Act, ma l'impianto culturale è un impianto culturale che ha radici profonde, non improvvisate. Questa offensiva è stata un'offensiva importante che ha portato un pezzo della sinistra, appunto, larga parte della sinistra, non considerare la rappresentanza del lavoro come una questione fondamentale. Mentre ritengo che sia esattamente il contrario. A me ha molto colpito, positivamente, il fatto che i compagni che sono usciti dal PD, Roberto e gli altri, abbiano scelto di chiamarsi articolo 1. è un'innovazione, è un messaggio molto positivo perché ribalta quello che è stato appunto il mantra dell'ultimo trentennio. Insieme a questo, ed è il secondo elemento, insieme a questo perché appunto noi dobbiamo capire le ragioni per le quali è venuta meno la rappresentanza politica del lavoro, ed è stata significativamente ridimensionata la rappresentanza sociale del lavoro. Ci sono state tutta una serie di cambiamenti che hanno determinato o largamente ridimensionato l'efficacia della rappresentanza politica del lavoro. Ora, ovviamente non c'è tempo neanche per citare tutti i titoli. Ci sono stati cambiamenti tecnologici, ci sono stati cambiamenti organizzativi, finalizzati proprio a spuntare la capacità di rappresentanza sociale e politica del lavoro. C'è stato, diciamo, in stretta connessione con l'affievolimento, la marginalizzazione della rappresentanza sociale e politica del lavoro, c'è stata la marginalizzazione, l'affievolimento, l'indebolimento della capacità regolativa dello Stato nazionale. Cioè, una delle ragioni per cui perde efficace la rappresentanza politica del lavoro è che oggi la possibilità di intervenire efficacemente sulle condizioni del lavoro è estremamente ridimensionata. A causa, appunto, di quello che è avvenuto in termini di mercati globali, la liberalizzazione dei movimenti di capitali è stato l'atto più devastante da questo punto di vista, che ha minato la forza sociale e la capacità di efficacia dello Stato nazionale sulla possibilità di intervenire. Ci sono stati, appunto, gli interventi sulla regolazione degli scambi di merci e servizi, che hanno ulteriormente depotenziato questa capacità regolativa politica. C'è stato per noi, e questo è un punto sul quale io invito, nonostante non abbia, diciamo, ricette facili da raccomandare, invito anche la CGL a riflettere di più. Noi siamo in un quadro di trattati europei e di moneta unica, che è fondato sulla svalutazione del lavoro. Fare l'elenco delle rivendicazioni senza piena valutazione del quadro macroeconomico e regolativo nel quale siamo rende quelle rivendicazioni molto astratte. Il Jobs Act di Renzi è stato l'ultimo della serie di Jobs Act, perché da quando ha cominciato a scredere nel 2004 e nel 2005 quelle riforme ARTS, con la moneta unica si è propagato inevitabilmente in tutta l'eurozona una dinamica pesantissima e incontenibile di svalutazione del lavoro. E ora la sta facendo pure da ultimo Macron, perché c'è un gap tra le dinamiche dei salari per l'unità di prodotto, ora non scendo nel tecnico, tra la Francia e la Germania, che è secondo soltanto a quella tra l'Italia e la Germania. Cioè ridurre, mentre noi giustamente, e anche negli articoli che ho letto, poniamo la questione salariale in termini di aumento delle retribuzioni, quello che è necessario nel quadro in cui siamo è esattamente il contrario. Il Jobs Act serve a ridurre il costo del lavoro attraverso tutti i meccanismi che sapete. Quindi questi elementi minano la capacità della politica di poter svolgere una funzione di rappresentanza. Quindi noi siamo di fronte a un problema molto serio, molto serio e molto profondo, che spiega perché la sinistra storica è ai margini ovunque in Europa. Perché sono convinto di quello che diceva Alfiero? Cioè o la sinistra è rappresentanza politica del lavoro oppure non è. Ovviamente non può essere solo questo, ma o assumiamo come fondativa e distintiva, non unica, distintiva, questa funzione oppure non siamo. E noi abbiamo un problema molto serio perché quello che è avvenuto in questo trentennio sono stati cambiamenti profondi, strutturali. Noi nella nostra discussione prestiamo troppa poca attenzione alle variabili di struttura, un tempo dicevamo. Sembra che sia tutto un problema di soggettività deboli o subalterne che guidano le sinistre in tutta l'Unione Europea o dall'altra parte dell'Atlantico. No, abbiamo un problema molto serio. E credo che dobbiamo cominciare a porlo così, nella consapevolezza che è complicato, non ci sono bacchette magiche, ma è un problema complicato che mette in gioco il futuro della sinistra storica ovunque, ovunque, perché questo sta avvenendo, ovunque questo è. Quindi dobbiamo ricostruire. A me sembra che questa fase abbia delle caratteristiche in termini di portata, di sfida, che è analoga a quella a cavallo dell'inizio del XX secolo in cui si formavano per la prima volta le rappresentanze sociali e politiche del lavoro. Siamo a quella dimensione del problema che dobbiamo affrontare senza millenarismi, senza visioni apocalittiche, perché ovviamente non è questo il punto, non voglio essere apocalittico, voglio provare a misurare però la dimensione del problema, perché altrimenti non capiamo. e voglio appunto insistere su un fatto che credo anch'io, cioè la guardo sul piano politico e sento la necessità di avere un interlocutore che con tutta la sua autonomia aiuta un percorso di ricostruzione, di rappresentanza politica del lavoro. Con tutta la sua autonomia non è che mi aspetto che la CGL dia indicazioni di voto per un partito. Quello che servirebbe a mio avviso è porre fino in fondo la rilevanza di questo nodo, che è appunto un nodo che ha la profondità e lo spessore che provavo a ricordare. Credo che qualche passo avanti, e chiudo, lo potremmo fare anche in questi mesi che precedono le elezioni politiche, prendendo le misure giuste, senza nessun tipo di forzatura, però appunto se potessimo misurarci su alcuni punti fondamentali da mettere al centro anche del messaggio elettorale che dà una sinistra che sta andando avanti in un percorso di unità. Perché a me pare che quello che è avvenuto nelle ultime due settimane sia importante, diciamo, in termini di costruzione del percorso unitario, dalla scelta che hanno fatto i compagni e le compagne di MDP sulla nota d'aggiornamento al DEF, alla scelta sulle leggi elettorali, passaggi importanti che hanno, come dire, avvicinato posizioni che per tante ragioni erano fino allora diverse. Questo percorso unitario, credo, potrebbe trovare straordinario aggiovamento da un ancoraggio sui temi del lavoro. Perché appunto noi dobbiamo mettere in evidenza perché oggi chi vive sofferenza economica e sociale, chi vive privazione di diritti sul versante del lavoro, sul versante sociale, può sperare in una sinistra che riscopre le sue ragioni, come dire, di fondo, le sue ragioni costitutive, le sue ragioni che l'hanno portata all'esistenza. Ecco, è un lavoro complicato, però condividere una lettura di fase che non è congiunturale appunto, non è il problema di Renzi e del Jobs Act, ma è una lettura più profonda, che sta dietro la sconfitta dell'SPD, che sta dietro a quello che è successo in Francia, che sta dietro a quello che è successo da tante altre parti in Europa, che sta dietro un cambio di paradigma che è avvenuto nel Regno Unito con il Labour di Corbyn. Ecco, dimensionare il problema e cominciare a fare qualche passo riesce anche a spiegare perché oggi vogliamo ricostruire la sinistra. non è un fatto congiunturale, non è un fatto tattico per evitare, diciamo, di stare insieme a Matteo Renzi, ma è un fatto che ha ragioni profonde, ragioni storiche. Se lo mettiamo così, io penso che noi troviamo anche un po' più di interesse, perché altrimenti sembra una nostra iniziativa tutta finalizzata a salvaguardare un ceto politico, mentre non è così. è il tentativo di aprire un'altra fase, ricostruire e chiudo le condizioni economiche e sociali per ridare al lavoro quella funzione di definizione dell'agenda politica che nell'ultimo trentennio ha perso. Grazie per la visione!